Siamo con Mattioni del Ponte, una gran bella partita che in un certo senso se voi mettete la palla a terra, fate girare in contropiede e non ce n'è per nessuno. Sì, rispetto alle altre squadre siamo più giovani, quindi puntiamo più sul fattore fisico, sulla corsa, sulle ripartenze. Quest'anno abbiamo inserito dei giocatori sbarbati, anche io che faccio calcetto in modo di dare una sorta di gioco oltre alla fisicità e stiamo ottenendo dei bei risultati. Anche l'ultima partita con l'Osteria la Coppetella siamo stati sfortunati perché ce la siamo giocata fino alla fine. Vi proiettate di diritto nei play-off? In un certo senso siete tra le protagoniste? Sì, a inizio anno non ce l'aspettavamo. Dopo in corsa ci siamo resi conto che ce la potevamo giocare e adesso stiamo dando tutto per rientrare tra i primi e quattro e provare i play-off. Ok, allora io ti faccio in bocca al lupo, attivare la tua squadra e alla prossima. Crevi! Ok, allora io ti faccio in bocca al lupo, attivare la tua squadra e alla prossima.